E' il momento della vergogna, aveva detto Papa Francesco, commentando l'ennesima strage in mare. Di quel mare, il Mar Mediterraneo, decantato come ponte tra i popoli, come terra che unisce. Ma il naufragio a largo di Tripoli, durante il quale hanno perso la vita circa 130 persone, vede responsabili anche gli italiani. L'Italia sapeva della richiesta di aiuto e non ha fatto nulla. E nei giorni di mea culpa, la Puglia si trova ad accogliere nuovi migranti, i 112 in tutto sbarcati su due barche a vele sulle coste salentine. La prima intercettata è stata condotta nel porto di Santa Maria di Leuca, dove i migranti sono stati soccorsi dai volontari della Croce Rossa e dai medici USMAF. Molti di loro sono stati trovati in ipotermia. Tutti sono stati condotti nel centro di prima accoglienza Don Tonino Bello di Otranto, la posizione di due migranti sospetti di essere scafisti e al vaglio dell'autorità giudiziaria. Il secondo sbarco è avvenuto sempre al capo di Santa Maria di Leuca, mentre si stavano ultimando le operazioni di soccorso del primo gruppo intercettato. A bordo, sul secondo datante, 78 migranti, di cui 35 minori non accompagnati. Terminate le operazioni di accoglienza da parte dei volontari della Croce Rossa, i migranti sono stati portati nel centro di quarantena della Croce Rossa italiana Don Tonino Bello, sempre a Otranto.